Pronto? Casa Fornero? C'è Elsa? Sono Pinuccio Grazie veloce E io che ci sono? Sto a una cosa della CGL Sì, due coglioni, Elsa, madonna mia Sono tristi qua, sono proprio tristi Sì, che mi aspettava, sì, alle 10 doveva venire su Si può dire che è stata il parrucchieri a Patotà Eh sì, è stato in seguito a Tardi No, sta vestita bene Più o meno Questi di sinistra non lo sai che devono far vedere che si vestono male Sì, è arrivato tutti i giornalisti Senti, adesso tu vai avanti con la riforma E non te ne fregassi questi Che questi vogliono solo fare la gita a Roma Sì, anzi tu prolunga l'Inter Perché la gita la facciamo fino a maggio più di giù Eh sì, che mi assoce la salute del volume della CGL Per andare a Roma a farsi la gita Eh sì, si fa il paio con la frittata, il termo sui caffè Farò come venuti con le bambini e poi se le maniglia condotte a farla a te Ehi, saluti alla Marcegale che so che sta a casa tua Che avete fatto pace Andate avanti, andate avanti Mi raccomando, sto a Bari Eh sì, saluti anche dalla regione So che la Marcegale è anica qua Fa un sacco di cose qua E un saluto dal sindaco che ti spedisce due cose Beh, ti raccomando Grazie 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 Grazie